Musica Rifiuti, discarica di pianopoli e termovalorizzatore di gioia in difficoltà, i comuni della riviera tremano. Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli errori e sul debito in stanità, pesante verdetto per la Calabria. Un regalo speciale per gli ospiti della comunità, il Belvedere, otto ragazzi diversamente abili in barca per un pomeriggio di normalità. Calcio, tutti in retroscena dell'iscrizione sul filo di lana dello Scalea al prossimo campionato di eccellenza. Erano le anticipazioni di Rete 3 News. Buonasera e ben ritrovati da parte di Martino Ciano. Oggi venerdì 15 luglio. In apertura parliamo ancora dell'emergenza rifiuti perché una nuova emergenza temuta dai comuni del territorio e in particolare dai centri turistici potrebbe avvicinarsi. Ci spiega cosa sta succedendo Andrea Polizzo. La discarica di Pianopoli è di nuovo a rischio saturazione e i comuni altotirrenici tremano. Il pessimo spettacolo offerto da strade colme di rifiuti lasciati a macerare al sole, aleggia come uno spettro sul weekend della riviera dei Cedri. Un incubo realmente avvenuto per lo stesso motivo a fine giugno in quasi tutti i centri del territorio e che potrebbe replicarsi a breve con conseguenze negative sul turismo. Il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, ieri ha rassicurato molti primi cittadini preoccupati e oggi continua a dichiarare di essere in continuo contatto con le municipalità delle due sponde della prefettura. Mentre però la preoccupazione dei comuni, scalea in particolare, resta legittima, la politica prova ad occuparsi della vicenda. E' di oggi la notizia che Angela Napoli, deputata calabrese di Futuro e Libertà, ha presentato al governo una interpellanza per chiedere quali siano gli urgenti interventi per ripianare l'emergenza ambientale in Calabria e qual è l'attuazione degli impegni assunti dal governo con l'approvazione della risoluzione avvenuta in Parlamento il 23 giugno. A contribuire in queste ore alla crisi di Pianopoli la saturazione dell'unico impianto di termovalorizzazione dell'intera regione, quello di Gioia Tauro. I comuni, impossibilitati a conferire nel termovalorizzatore Regino, dunque, vengono dirottati verso l'unico impianto in grado di riceverli, appunto Pianopoli. Preoccupati anche i toni dell'assessore al ciclo dei rifiuti del comune di Cosenza, Carmine Vizza, una riduzione del quantitativo di rifiuti conferibili alla discarica di Pianopoli ha dichiarato ci avvicina ad una fase di emergenza che cercheremo di contenere quanto più possibile. Stesso discorso di mero contenimento vale per i comuni altotirrenici che in queste ore incrociano le dita per scongiurare l'ennesima emergenza rifiuti. Come dicevamo, l'emergenza rifiuti rischia seriamente di compromettere le vacanze dei tanti turisti che si riversano sulle coste dell'alto tirreno cosentino, strade e cassonetti stracolmi di rifiuti decorano ancora le vie di scalea e noi abbiamo raccolto una genuina lamentela di una turista che aiuta un po' a sdrammatizzare la situazione. Signora, dopo lo stress cittadino in una metropoli come Napoli, le vacanze tanto sperate, purtroppo lo scenario non è irilliaco come lei potrebbe sperare. Vuole raccontarci questo disagio, questa emergenza che ha ritrovato a scalea e che ha lasciato a Napoli? Sì, proprio, è stato un dispiacere, è malassato quella immondizia là in Napoli e qua pensate che era meglio, non c'era, e ora stanno peggio di Napoli qua, è troppo brutto, sono cose proprio che fanno schifo. Noi, per noi, no, che portiamo le ragazzine, troviamo una cosa più pulita, no? No, è questa immondizia qua, che noi non potremmo manca prendere poco d'acqua per bere, un'acqua pulita, e questo odore non ci fa proprio niente bene, per la salute. Da quanti giorni si sta verificando questo stato emergenziale? Non è stato otto giorni, più o meno, e noi stiamo proprio, veramente dispiaciuti di questa situazione. E adesso mi ha visto voi e stiamo parlando, no? Che stavano filmando e tal, e lo signora là pure, la signora, stavano domandando l'acqua, e voleva dire a me, come mai sta questo? E io le ho detto, non è sto qua, è per tutto la scalera che sta così. Salviamo la sanità calabrese, ma ciò è possibile? Se lo chiede liberiamo l'Italia, movimento politico-culturale tramite Giuseppe Lanuara, responsabile della direzione Alto Tirreno-Cosentino. Il promotore della sede Alto Tirrenica pone in un comunicato stampa una serie di quesiti sulla validità del piano di rientro dal deficit sanitario calabrese, che martedì 19 luglio sarà oggetto di approvazione del tavolo massicci presso il Ministero dell'Economia. Una validità che, secondo Liberiamo l'Italia, sarebbe minata alle basi proprio da un'illegale nomina del Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, come commissario ad acta del piano. La nomina di Scopelliti è scritta nella nota e in contrasto per manifesta incompatibilità i sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del DL del 1 luglio 2009, numero 78, convertito in legge 102, sbarra 09 dell'articolo 4 del decreto legge numero 159, sbarra 07, scusate, convertito in legge dall'articolo 1, numero 227, sbarra 07. Quindi il Consiglio dei Ministri, nel nominarlo commissario ad acta, avrebbe commesso un macroscopico abuso. Di conseguenza, secondo la Nuara, tutti gli atti del commissario ad acta della sanità calabrese dovrebbero ritenersi inutili. Inoltre, Liberiamo l'Italia ricorda che ad oggi ancora non sono stati approvati i bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere, scusate, calabresi, ed in alcuni casi addirittura sono stati bocciati dalla stessa Regione. Perciò, conclude la Nuara, come è stato possibile inviare compiutamente il debito sanitario? E continuiamo proprio a parlare di sanità. Ieri è stato illustrato alla Camera dei Deputati il rapporto della Commissione bicamerale di inchiesta sugli errori e sul debito in sanità. Per la Calabria la situazione peggiore. Il servizio. 75 presunti casi di mala sanità, un debito impossibile da quantificare se non con cifre approssimative, una rete ospedaliera inefficiente e incapace di gestire le risorse. Ecco a voi la sanità calabrese nel rapporto della Commissione di inchiesta sugli errori e sul debito in sanità presieduta da Leo Luca Orlando. Le perplessità maggiori sottolineate dal rapporto illustrato ieri alla Camera dei Deputati è quello della quantificazione del debito. I bilanci delle strutture ospedaliere calabresi, infatti, sono inaffidabili al loro interno divergenze e contraddizioni. Inoltre c'è uno spropositato uso delle anticipazioni di cassa che vanno sommate all'illogico balletto di cifre, di cui i documenti contabili sono zeppi. Nel mirino della Commissione bicamerale è anche l'ingente somma sborsata dalla Regione Calabria alla KPGM, l'advisor che avrebbe dovuto occuparsi della quantificazione del debito sanitario calabrese. Un milione e mezzo di euro a carico della Regione con un'operazione, dice il rapporto di dubbia, legittimità. A tutto ciò si aggiungano anche l'illegittimo acquisto di farmaci, di apparecchiature sanitarie inutilizzate, l'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, fatture gonfiate per operazioni mai effettuate, ritardi di pagamento ai fornitori. E in questi cittadini sono le vere vittime. La relazione infatti cita casi specifici di mala sanità avvenuti in Calabria, segnalando nelle aziende ospedaliere carenze professionali, umane e di attrezzature. Morire di sanità in Calabria, continua il rapporto, è una triste possibilità. Troppi trasferimenti da una struttura ospedaliera all'altra, senza nessun coordinamento tra centrale operativa del 118 e aziende sanitarie. Ultimo ma non meno importante punto critico, la totale mancanza in Calabria di un sistema di gestione del rischio infettivo. Insomma, la sanità calabrese è allo sfascio, ma per la Commissione bicamerale è allarmante l'inerzia della Regione e delle ASP e l'impunità dei responsabili. Nell'ambito della sanità calabrese bisogna raggiungere livelli normali, è quanto affermi in una nota Luciano Barani, deputato e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari e i disavanzi finanziari regionali, dopo l'approvazione, con voto unanime dalla Commissione parlamentare di inchiesta preseduta da Leo Luca Orlando, della relazione sullo stato della sanità in Calabria. È stato analizzato il periodo tra gennaio del 2000 e il maggio del 2001, ha detto Barani, e si sono evidenziati gravi problemi strutturali e gestionali. Il Presidente della Regione Scopelliti ha ereditato una situazione economica disastrosa e molto difficile da gestire. Ottima finora la strada intrapresa per il riordino e la lotta agli sprechi. Continuiamo con il nostro Tg e cambiamo decisamente argomento. Prosegue il viaggio di Rete 3 sulle spiagge della riviera dei Cedri. Oggi le nostre telecamere si sono fermate a Diamante, che piace ai turisti perché offre un turismo piacevole non solo per gli adulti, ma anche per i giovani e soprattutto per i bambini. Diana Colle. Murale, scolori, lungomare, ottimi prezzi, un paese adatto a tutta l'età. Ecco perché i turisti scelgono Diamante per le loro vacanze. È un posto adatto sia ai bambini che agli adulti, agli anziani, si sta bene. C'è un bel paesino, una bella passeggiata la sera, poi il mare è bellissimo, siamo tranquilli. È un posto piacevole e poi accoglienti. Ci piace perché c'è quasi tutto, un mare bellissimo, il centro vicino con tanti negozi, anche la possibilità di vedere un bellissimo lungomare. Sono 30 anni che vengo qua, mi sono trovata bene dall'inizio, ho comperato casa e ci sono rimasto. Diamante è una realtà molto bella. Piacevole e accogliente, Diamante richiama turisti durante tutta l'estate, per vacanze sia lunghe che scaglionate. Sono stata una settimana, poi faccio qualche altra puntatina di qualche giorno. Un mese, facciamo il mese di luglio, poi qualche volta torniamo ad agosto. Un mese. Un mese e mezzo. Dai 10 ai 15 giorni. Diamante inoltre dà un'ottima offerta e forse è il paese della rigliera che attira più giovani per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma anche questo gioiello non è esente da critiche, soprattutto riguardo alle barriere architettoniche quando si tratta di disabili e la richiesta di qualche divertimento in più anche per i turisti che vengono a luglio. Quello che tengo a lamentare è soprattutto per i disabili, non c'è proprio niente, niente, niente. Avendo un disabile pure in casa lui ci rinuncia a venire qua, quindi pur avendo casa non ci può venire. I servizi non è che sono troppo, diciamo, certe cose mancano ancora. Questo lungomare, per esempio, a volte è pericoloso per i bimbi. E' anche un po' di movimento, forse a luglio manca, c'è solo agosto il movimento. Dà una buona offerta. Nuova convenzione per il segretario comunale di Grisolì è quanto determinato dal civico consesso tenutosi ieri sera. Il consigliere con delega alla cultura, Francesco Papa, spiega che allo scioglimento della precedente convenzione è seguita l'approvazione di una nuova convenzione per noi necessaria, visto che il comune di Tortora, capofila della vecchia, ha sostituito il segretario comunale, Carlo Morabito. La nuova convenzione è stata siglata con i comuni di Aieta, che è capofila, Santa Domenica Talao, Buonvicino e Maierà. E per l'incarico viene confermato sempre Carlo Morabito. Con la convenzione approvata ieri, evidenzia Papa, le ore per cui avremo a disposizione il segretario passano da 6 a 12 settimanali. E parliamo della povertà in Calabria. Una famiglia numerosa su due nel sud Italia è povera. E quanto emerge dal rapporto dell'Istat, secondo il quale la povertà risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2009, anche se per alcune fasce della popolazione le condizioni sono peggiorate. Sempre secondo l'Istat, la regione più povera è la Basilicata. A seguire le situazioni più gravi si osservano tra le famiglie residenti in Sicilia e in Calabria. Una situazione che dovrebbe spingere tutte le forze politiche ad una riflessione, ha affermato il commissario del PD calabrese Adriano Musi. I tagli alle pensioni, la precarizzazione del mondo del lavoro, lo storno di fondi destinati al mezzogiorno, il taglio dei trasferimenti agli enti locali e i ticket sulla sanità sono misure che non aiutano i poveri. Continuiamo ancora con il nostro telegiornale. Un'iniziativa singolare, quella organizzata dalla Casa Famiglia Il Belvedere, è un giro intorno all'Isola Dino per regalare ai ragazzi diversamente abili un pomeriggio di normalità. Li abbiamo accompagnati con le nostre telecamere. Ci spiega tutto nel suo servizio Pierina Ferraguto. Oggi Rete3 ha deciso di accompagnare i ragazzi disabili, ospiti della Casa Famiglia Il Belvedere, gestiti dall'Aias, sezione di Cetraro, a fare un giro turistico intorno all'Isola Dino di Praia Mare. A bordo dell'imbarcazione Lara Zara di Arturo Manco. Insieme ai passeggeri d'eccezione, gli operatori della Casa Famiglia e la coordinatrice della struttura Mercedes Scilingo. La Casa Famiglia, dopo di noi Il Belvedere, viene aperta nel 2008 e ospita attualmente 8 disabili gravi, o senza nucleo familiare o dopo la famiglia è impossibilitata a mantenerli. Abbiamo assistenza 24 ore su 24, è una struttura residenziale che li ospita, quindi noi siamo la loro famiglia. Nel periodo invernale vanno a scuola e nel pomeriggio fanno le diverse attività, mentre nel periodo estivo quindi facciamo le diverse attività come questa di oggi che comprende appunto una giornata in barca. Estate anche per l'ora e quello che noi cerchiamo di fare è proprio di farli sentire appunto normali. Domenica prossima passeremo una giornata con i fuoristrada nelle montagne di Verbicaro. Al timone Arturo Manco, proprietario di Lara Zara, che ha accolto con grande entusiasmo l'iniziativa del Belvedere. Da parte nostra è un piacere immenso collaborare con queste persone qua, lo facciamo spesso. Si regala un qualcosa a questi bambini che gli manca tanto. Noi cerchiamo di dargli quello che possiamo nel nostro campo lavorativo, cerchiamo di accontentarli, di fargli vivere una giornata diversa da quelle che è di loro solito nelle strutture, purtroppo perché sono bambini disabili. Da parte nostra è un piacere immenso collaborare con queste persone qua, lo facciamo spesso perché vediamo l'entusiasmo che hanno poi le persone comuni, quindi pensiamo che a loro gli possa fare tanto bene. Resto sconcertato di fronte a questa violenza gratuita, ma una vicenda isolata non può gettare fango sui tanti docenti che lavorano nei nostri asili. A dirlo l'assessore della Regione Calabria al lavoro e alle politiche sociali, Francesco Antonio Stillitani, in merito alla vicenda dell'asilo comunale di Mileto che ha visto l'arresto di quattro maestre per ripetute violenze su un bambino disabile. L'obiettivo, per il momento, conclude Stillitani, resta quello di realizzare asili comunali o convenzionati nel maggior numero di comuni calabresi possibili, in modo da dare la possibilità a tutti i bambini in età prescolare e dalle loro madri un servizio utile. Andiamo invece a Verbicaro, cambiamo nuovamente l'argomento, inaugurata ieri sera nel corso di un seminario storico presso il centro Giuseppe Impastato, la mostra risorgimentale, i particolari nel servizio di Giuseppe Miraglia. Noi abbiamo ripiantato l'Olmo, dove era stato collocato nel 1799, epoca della rivoluzione partenopea, da cittadini di Verbicaro che appoggiarono quella grande esperienza. Dunque un avvenimento di elevato pregio storico, a sostenerlo il sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, a margine della terza giornata per le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che si è tenuta ieri sera a Verbicaro. La piantumazione dell'albero della libertà ha coinciso con l'inaugurazione della mostra di documenti originali provenienti dal centro studi risorgimentali Mauro e allestita presso il centro di educazione ambientale Giuseppe Impastato. Il primo cittadino di Verbicaro ha evidenziato inoltre il valore dell'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Quello che interessa è restituire al piccolo paese di Verbicaro la memoria della sua storia, ma anche delle relazioni con la storia del resto della Calabria e del Meridione, ma del resto d'Italia. Un viaggio attraverso la storia del centro montano evidenzia Spingola per scoprire i giorni della memoria che hanno visto la comunità di Verbicaro partecipe in qualche modo a quella che può essere stata l'Unità d'Italia e non solo. Si concluderà alla fine di agosto con l'inaugurazione del centro della memoria che si imperna in questa fase nel recupero dei documenti storici legati alla rivolta del 1911 che si fu a Verbicaro e a quella del 1855, epoca pre-unitaria, sempre per fatti di colera. Sono episodi che hanno segnato la nostra collettività, ma che ci consentono di percorrere attraverso un processo anche identitario di recupero della nostra memoria un momento storico complessissimo come quello dell'Unità d'Italia che ancora non si è nemmeno concluso. Questa città è decisamente cresciuta negli ultimi 40 anni e supererà anche il momento difficile che sta attraversando. Lo ha detto il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, in occasione del quarantesimo anniversario dei moti di Reggio Calabria scoppiati tra il 14 e 15 luglio del 1970. Quella del 15 luglio è una data storica che tutti i reggini ricordano con commozione. Oggi, a concluso Scopelliti, la città è pronta a superare le emergenze grazie alla collaborazione istituzionale che si è creata tra Regione, Provincia e Comune. Passiamo al calcio adesso. Ieri giornata molto concitata per le sorti dell'US Scalea. Alla fine la radiazione è stata scongiurata. Ora si può pensare ai festeggiamenti per il centenario. Gaetano Bruno. Serviva un miracolo per salvare l'US Scalea e miracolo è stato. Molti tifosi si saranno rivolti speranzosi alla Madonna del Carmine, padrona della città, che verrà festeggiata proprio in questi giorni. E a fare il miracolo ci ha pensato proprio Carmine, re da il cognome, imprenditore già vicino negli anni passati alla quasi centenaria società biancostellata. Difficile ricostruire la febbrile giornata di ieri, iniziata molto probabilmente presto, vista la conferenza stampa di Rovito della sera precedente, che sembrava aver chiuso tutti gli spiragli. Intorno alle 16, la notizia che il bonifico di 7.550 euro per riscrizione al campionato di eccellenza era stato effettuato con fondi di reda e parte raccolta direttamente dai tifosi. Cifra che sarà successivamente stanziata dal Comune, con apposita delibera. Ma tutto questo non era sufficiente, perché al momento del versamento era ancora Rovito il presidente di fatto. E' seguito un concitato incontro tra re da Longobucco Rovito, l'assessore Raffaele De Rosa e l'ex direttore sportivo Marcello Battaglia. Proprio quest'ultimo aveva promesso ai tifosi che avrebbe fatto di tutto per garantire allo scalea di continuare il suo storico cammino, nonostante avesse già anticipatamente dichiarato di aver chiuso la sua esperienza con i biancostellati. In serata intorno alle 20, è stata poi perfezionata anche l'iscrizione online sul sito della Lega Nazionale Direttanti, che, come per tutte le altre squadre, si riserva il diritto di valutare gli incartamenti. In discrezioni parlano di 25.000 euro subito consegnati a Rovito e di altri 40.000 da dilazionare nei prossimi tre anni, ma per l'ufficialità di modalità, tempi e cifre della transazione si attende la conferenza stampa che probabilmente sarà convocata per martedì. La vera novità che ha di fatto aperto la partecipazione economica del Comune è la sempre più probabile fusione di tutte e tre le squadre cittadine. L'attore dirigenza della Talao infatti appoggerà la nuova cordata dell'US Scalea, così come l'Ascalos. Il futuro delle due squadre potrebbe comunque continuare se dovesse manifestarsi l'interesse di altri gruppi a rilevarle. Fatto il miracolo, ora serve lavorare per costruire la squadra in vista dell'imminente impegno di Coppa Italia il prossimo 21 agosto. Per la figura di direttore sportivo si fa strada il nome di Antonio De Filippo. Per quanto riguarda tecnico e rosa di calciatori, bisognerà attendere almeno la prossima settimana, ovviamente dopo i festeggiamenti per la Beata Vergine del Carmelo. Vi diamo una comunicazione di servizio perché a causa di problemi tecnici lo speciale sul mondialito beach soccer disputatosi a Diamante lo scorso fine settimana andrà in onda lunedì alle ore 21 e non più questa sera come previsto. Ci scusiamo per l'inconveniente. Con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv prima di lasciarvi il meteo. Bel tempo con qualche velatura in rapido transito per domani. Le temperature saranno in diminuzione su tutto il centro-sud. Venti deboli in rotazione dei quadranti occidentali. E poi i mari da poco mossi a mossi. Stessa situazione climatica con un lieve aumento delle temperature massime invece per domenica. Il weekend in Calabria. Questa sera a Scalea concerto dei ricchi e poveri in occasione della festa della Madonna del Carmelo alle ore 21 in piazza Aldomoro. Per domani sabato 16 invece a Diamante conferenza stampa del presidente della regione Scopelliti sul servizio sperimentale di potenziamento dei collegamenti fra gli aeroporti calabresi e le maggiori località turistiche a partire dalle ore 10 presso il comune di Diamante. A Maratea invece memoria del corpo la mostra fotografica di Biagio Limongi a partire dalle ore 20 a Palazzo Delieto e a seguire sempre a Palazzo Delieto quando ci batteva forte il cuore incontro con Stefano Zecchi su estetica e romanzo a cura di Dialogos a partire dalle ore 21.30. Per finire domenica 17 ad Aieta l'associazione musicale e corale Ars Nova presenta il concerto del coro polifonico Aura Artis di Cosenza diretto dal maestro Saverio Pinto il coro si esibirà alle ore 21 nel Palazzo Rinascimentale di Aieta. Con questo è davvero tutto ringraziamo Vittorio Scuotto Lino Russo e Domenico Imbelloni che ci hanno assistito alle telecamere in studio e poi Antonello Gazzaneo in regia da parte di Martino Ciano e la redazione giornalistica di Rete3 una buona continuazione con i nostri programmi e grazie come sempre per la cortesa attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti